L'NPC Rieti è concentrata sulla prossima sfida di domenica in casa contro la Stella Zurra-Roma. Approfittando della sosta imposta dalla Lega a pallacanestro, si è puntato alla ricerca di una migliore condizione fisica, in particolare per Benedusi che non scende in campo da tempo. Inoltre, durante i duri e costanti allenamenti settimanali, il coach Nunzi ha ancor più inserito la New Entry, l'italo-argentino d'Arrigo. Ma se da una parte il tifo Riatino sarà presente dentro le mura di casa, dall'altra ecco la tessa altrove, precisamente nelle Marche, dove tra due domeniche e il 22 marzo ci sarà l'atteso incontro con il Monte Granaro, storica rivale del basket Riatino. È già partita la raccolta prenotazioni per i biglietti che verranno consegnati alla società Riatina, o con qualche giorno di anticipo o il giorno stesso della gara. Un dirigente della squadra, infatti, provvederà a distribuirli a chi li avrà prenotati e pagati in anticipo alla segreteria NPC. Il costo del biglietto è di 7 euro. I giorni e gli orari di apertura della segreteria NPC al pubblico presso la sala stampa del Palazzo Giurner sono il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 18 alle 19.30, venerdì dalle ore 18 alle 19.00. Intanto gli amici per la Sebastiani stanno organizzando un pullman per la trasferta. Grazie a tutti.